Oh, sorridi, fai un sorriso, fai una cosa, madonna mia. Non c'ho niente da sorridere, babù. Che è successo? Com'è successo? Sono tre giorni di seguito che finisco di lavorare, torno a casa e trovo mia moglie abbracciata di nuovo. Eh, dì, 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 ma renditi conto che tre volte di filo che mi finisco le mie brave otto ore di lavoro, torno a casa e trovo mia moglie abbracciata di un uomo. Cioè, ma dimmi tu che cosa posso fare? Scusa, non so. Puoi provare a fare due ore di straordinario. Sì, poi scherzo, è finito.